I consigli del Career Service dell'Università di Siena Vivere all'università da mille occasioni per nuove esperienze da fare. Sfruttale, ti serviranno per capire che cosa ti piace fare e metterai da parte competenze utili per il tuo lavoro in futuro. Ecco le otto esperienze universitarie più importanti per costruire il tuo curriculum. Fai una vita universitaria attiva. Diventa studente tutor, partecipa alle rappresentanze studentesche, diventa parte di un'associazione studentesca o fondane una. L'Università di Siena ti supporta con tutorato retribuito, fondi per attività e progetti delle associazioni studentesche. Fai parte di progetti e partecipa agli eventi dell'Ateneo. Approfitta dei seminari e workshop per crescere e conoscere persone nuove. Se gli eventi ti interessano, aiutaci ad organizzarli. L'Università di Siena ti supporta con tantissime attività culturali di Lusiana Campus. C'è anche la radio degli studenti. Acquisisci competenze extra. Impara nuove lingue, studiati nuovi software. Non smettere mai di formarti. L'Università di Siena ti supporta con allenamento alle soft e digital skills. Corsi di lingua, riconoscimento ufficiali delle competenze trasversali che hai acquisito attraverso l'Open Badge. Vai all'estero. Sai che l'esperienza all'estero è sempre un requisito fondamentale per i selezionatori? L'Università di Siena ti supporta con numerose borse di studio, programmi di tirocinio internazionali, accordi con moltissime università nel mondo, corsi double degree, cioè a doppio titolo, di Siena e di un'università estera presso cui svolgerai una parte della formazione. Lavorare almeno un poco durante l'università ti insegna a gestire il tuo tempo, a rapportarti con diverse figure ed acquisire autonomia. L'Università di Siena ti supporta con tirocini interni retribuiti, attività di collaborazione in part-time per studenti, consulenza e attivazione di tirocini in Italia, all'estero, fino a due anni dopo la laurea, rapporti con numerose aziende, eventi di recruiting e possibilità di alto apprendistato anche per la laurea triennale. Partecipa all'iniziativa di orientamento al lavoro. Per uscire dall'università con le idee più chiare, sarà fondamentale essersi misurati con l'idea del lavoro. L'Università di Siena ti supporta con incontri con le aziende durante tutto l'anno e seminari di formazione e informazioni supporto alle tue idee imprenditoriali. Conosci e usa tutte le possibilità. Esplora bene il sito della tua università. Fate l'amica attraverso i social. Chiedi, chiedi, chiedi. Spesso il servizio di cui ha bisogno esiste già. L'Università di Siena ti supporta con un nuovo portale dedicato all'orientamento, facile da consultare e tutte le iniziative che abbiamo elencato. Impara la consapevolezza. Nel prendere decisioni sono importanti il confronto e la conoscenza. L'Università ti supporta con servizio di ascolto, orientamento e riorientamento personalizzato, supporto psicologico, consulenza per costruire il tuo percorso professionale, revisione del curriculum e del profilo in rete. Mentoring degli alunni per consigli sul percorso professionale.